Sono Peppino Udace, allora sarà finale per il Foggia, un'altra pugliese in finale per giocarsi la Serie B Ha battuto appena adesso il Pescara ai rigori, quindi sarà finale per il Foggia Il Pescara ha giocato una buona partita ma è andata per due volte sopra, poi la Foggia l'ha recuperata Sia il primo gol poi recuperato al 92esimo, sia il gol nel secondo tempo supplementare E poi la grande vittoria nei rigori stavolta è la Foggia E in finale ragazzi ha fatto un percorso la squadra di Delio Rossi assurdo battendo il Potenza nel secondo turno Ha battuto l'Udace Cerniola, poi ha battuto il Crotone e adesso pure il Pescara Quindi questo Foggia ci crede, secondo me ce la può fare perché l'Ecco si è forte ma è una squadra completamente Che secondo me potrebbe battere la squadra di Delio Rossi, sono veramente undici leone i satanelli Sono una squadra spietata quando serve, non mollano mai Caparbi Quindi insomma sono contento per questo Foggia, un'altra pugliese che va in finale quindi abbiamo due pugliesi Il Bari invece ha pareggiato al 93esimo, ha giocato un'ottima partita secondo me a Cagliari Quindi il ritorno sarà al San Nicola domenica a 60.000 posti Sarà una partita incredibile ma adesso per i tifosi foggiani bisogna crederci, Zafò sempre Ho fatto un pensiero quando ero, quando stavo guardando la partita prima Il Foggia quando era sotto, ho guardato la foto di Michele Aspetta un amico che non c'è più Più di un amico come se fosse uno zio Il suo Foggia ancora lui ci mette la mano da lassù come ce l'aveva messa contro l'Audace Come contro il Potenza, come contro il Crotone Anche contro il Pescara del suo Zeman Stavolta ci mette ancora la mano E quindi assurdo Ma questo Foggia è veramente una grandissima squadra Sta dando soddisfazione, io dico da tifoso Cerignolano Di essere uscito veramente contro un grande Foggia E che la partita non è stata un complotto Perché questo Foggia non molla mai Quindi onore al Foggia Onore al Foggia Domani poi andremo a dare le pagelle di Pescara Foggia E di Bari contro Cagliari Sono divertito, è stata una bella serata di calcio Sia per le mie due squadre pugliesi Perché il Bari comunque ha pareggiato Il Foggia comunque ha vinto Quindi sono contento Ci vediamo per i prossimi video Salute da Pepino Audace E sempre Forza Foggia E importante per la finale